Il Piedi di Calcaro E la lancio viene controllata da Severini Grande gioco di gambe di Severini Che prova l'uno contro uno contro Latini Severini se la porta sul destro Va la conclusione e palo clamoroso Con le mani la portiera dell'Alitalia Verso Severini Che stavolta è andato a prendere il pallone a sinistra Tanto un avversario Severini Prova a fare tutto da solo Severini va col destro Alto sulla traversa Il capitano dei padroni di casa Che adesso va alla battuta Fischia l'arbitro calcio di punizione Parte Severini Conclusione Ed è il raddoppio dell'Alitalia 2-0 Dopo un assist Segna anche un gol 2-0 di Luca Severini